lex boba salve a tutti ragazzi oggi in poche parole vogliamo fare qualcosa di più in pratica andiamo fuori e faremo una cosa scientifica una bomba una cosa con la coca cola con la menta con di carbonato meschiato tutto esplosivo capisci no? stai calmo quindi oggi bruciamo l'italia l'italia? il san vero ci manda fuori seguite il video e ci vediamo lì bella ok quindi dobbiamo iniziare adesso dobbiamo fare prima questo esperimento qualcosa di scientifico con la coca e i mentos qua in italia i mentos è difficile però abbiamo trovato questo qua che ci aiuterà ok apriamo la coca apri te dai piano piano vecchio vai 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 non metteremo così perchè sennò esci fuori e quindi facciamo qualcosa tengo io sei pronto? si si vai vai continua grazie toita 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 stop oh Vecchio! 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 Ormai è andato! Vecchio! 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 Non ci aspettavamo, no va vecchio! Quindi è finita male? Beh quello con la mento è finito così, è finito così! Adesso proviamo con bicarbonato e la coca! Cazzo fai! Ok, adesso ci tocca quello con il bicarbonato e la coca cola! Cos'è che hai detto? Bicarbonato e la coca cola! Ok, mi scusi, mi scusi! Apri! E mettiamo tutto dentro! Sesso! Vai subito, 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 subito! Vai 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 vai! Dai muoviti però vecchio! 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 Perché hai tolto il telefono? Hai paura? Non è waterproof! Non è coca proof! Vecchio! Mi è andato un po' di bicarbonato e poca! Ma che figata vecchio! Non funziona più ormai! Vecchio! Guardate che reazione! Guardate che reazione! Guardate che reazione! Guardate che reazione! Tutto tutto! Mamma mia! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Quindi due coca cola! Precati così! Quindi grazie mille ragazzi per aver guardato questo video! Vi ringraziamo di aver seguito l'esperimento un po' esplosivo un po' però siamo stati un po' delusi però ci può stare vai! In pratica come avete visto abbiamo fatto l'esperimento con la coca e il mento e poi la coca e il bicarbonato! Volevamo provare con la sabbia e il bicarbonato mischiato per fare una cosa di un po' più bello però alla fine non siamo riusciti a farlo! Quindi lo porteremo nel prossimo video! Non buono! Lo porteremo nel prossimo video! Quindi grazie per aver seguito! Iscrivetevi qua sotto! Attivate il campanello o tutto altro! Seguiteci su Instagram e... Bella rega! Bella!